Il giudice di pace le aveva dato ragione disponendo la cancellazione della multa da 160 euro e la restituzione dei quattro punti patente, ma di fronte a questo pronunciamento il comune di Treviso ha deciso di presentare ricorso e così la vicenda che ha come protagonista una 44enne residente in centro, Stefania Paoletti, è destinata a trascinarsi. Lo scorso 25 febbraio Stefania, malata oncologica e invalida, in preda a una forte emicrania, aveva parcheggiato l'auto in piazza Pola, nello spazio riservato ai disabili, scordandosi di esporre il contrassegno di cui è regolarmente in possesso. Risultato, ammenda, decurtazione dei punti e rimozione della vettura con relativo conto del carro a Trezzi per ulteriori 145 euro. In quel momento l'unica cosa che vedevo era a casa con una pastiglia per placare il dolore e quindi è stata una mia dimenticanza e io al comune quando sono andata dai vigili l'ho anche detto, mia dimenticanza, quindi io ero anche disposta a pagarmi il carro a Trezzi per riavere la macchina, però poi non che venissero tolti anche i quattro punti. L'errore per il suo difensore, l'avvocato Fabio Capraro, è lampante fin dall'inizio e l'ulteriore passo compiuto dal comune è un fulmine a ciel sereno. Già il ministero con la circolare del 1999 aveva chiarito che in fattispecie come quella della signora Paoletti non c'era in realtà una violazione perché la signora aveva e ha purtroppo il titolo per parcheggiare nel posto per invalidi, quindi onestamente non riesco a darmi una ragione neppure io. L'avvocato ha preso carta e pena e scritto al sindaco Mario Conte. Nel frattempo Stefania si prepara a presentarsi davanti al giudice monocratico e alla Corte di Cassazione. L'appello che lancia Polizia Locale e Forze dell'Ordine in generale è quello di cercare di andare incontro alle persone invalide o con disabilità. È possibile far sì che vengano accertati i proprietari delle macchine parcheggiate prima di portarle via da un posto invalido, visto che poi io ho 5 anni che parcheggio lì e sono un'invalida da 5 anni.